3, 2, 1 E' stato fatto brillare nel pomeriggio di ieri l'ordigno bellico di 500 libri di fabbricazione inglese a doppio innesco rinvenuto due settimane fa nell'area del Crescent in via Alvarez, nella adiacenza del porto commerciale di Salerno. Dopo le verifiche effettuate nell'area evacuata per un raggio di 500 metri, dalla sede del comando provinciale dei Carabinieri di via Mauri sa ho dato il via libera alle operazioni di brillamento. L'ordigno, sistemato all'interno di un terrapieno, è stato fatto brillare con l'ausilio di un filo comando dagli artificieri del XXI Reggimento Genio Guastatori di Caserta, appostati in una posizione di sicurezza a 200 metri dal sarcofago. L'esplosione da una prima ricognizione effettuata non avrebbe provocato alcun danno, soltanto un polverone. La sabbia e il terriccio utilizzati per il terrapieno sono piovuti in un raggio di poco più di 5 metri. Nei 15 minuti che hanno preceduto l'esplosione è stata interrotta la circolazione ferroviaria e quella veicolare nel tratto della 3, la Napoli-Pompei-Salerno, nel tratto che collega Vietri sul mare al capoluogo. È stata anche inibita la circolazione delle macchine sul viadotto Gatto che conduce all'area portuale di Salerno. Prima di far brillare la bomba erano stati sgomberati gli edifici che rientravano nel raggio di 500 metri dalla zona di via Alvarez dove era stato rinvenuto l'ordigno. L'evacuazione dei circa 6.000 cittadini si è svolta senza alcun problema.